Ah, pausa tra un allenamento e l'altro, bravo! Sì, coach! Sì, visto che fra un po' ricominciamo, Tito e io ho finito i pavesini, sì? Tu vieni il chilo yogurt, io i pavesini! Sì, ma come faccio senza l'apposito supporto, bambino? Oggi mi va in panchina! Con nove calorie e pochi semplici ingredienti, è sempre l'ora dei pavesini!